Allora, va bene, intanto facciamo le presentazioni finché aspettiamo Giuliano, che dici? Vabbè, io sono Marco Veronese Passarella, sono professore di politica economica presso l'Università dell'Aquila e l'Università di Leeds e sono un economista marxista, anche se non so bene cosa significhi, nel senso che nei dipartimenti di economia non è che ci si possa occupare molto di Marx, quindi è più una cosa che faccio a margine del mio lavoro, che è a tempo pieno. Passo la parola? No, vado io diretto? Allora, vabbè, Giuliano ci aveva chiesto di preparare delle tesi molto brevi, che potesse essere esposte circa in un quarto d'ora e che fossero sufficientemente controverse da generare un minimo di discussione, quindi noi non faremmo interventi molto lunghi. Faremmo solo alcune considerazioni e poi su quelle daremo la parola a voi, questa era un po' l'idea. Ora, la tesi che io sosterrò oggi, e temo che purtroppo lui sia d'accordo con me, infatti ce lo dicevamo all'inizio, più o meno abbiamo la stessa idea, questo potrebbe essere un problema, poi vediamo. La tesi che io sosterrò è che non soltanto non si possa capire Keynes senza conoscere Marx, ma, e questo forse è anche più controverso, io credo che non si possa davvero capire Marx se non si conosce Keynes. Perché? Partiamo dal primo punto, non si comprende Keynes senza Marx. Naturalmente i due autori a prima vista sembrano molto distanti, se si parla con una persona che abbia una conoscenza vaga di entrambi, la prima cosa che quella persona ti dirà è, ma dai come fai a metterli assieme? In fondo Keynes voleva salvare il capitalismo da se stesso, questa è la frase tipica che viene riportata, mentre Marx lo voleva fossare. Quindi sono autori molto, molto diversi. E invece io ritengo che i punti di contatto siano molto più numerosi e importanti di quanto comunemente si pensi e di quanto lo stesso Keynes pensasse. D'altra parte Keynes non è mai stato particolarmente tenero nei confronti di Marx, tende a non citarlo e quando lo cita di solito non è particolarmente generoso nei suoi confronti. D'altra parte aveva una conoscenza di Marx piuttosto superficiale, tenete anche presente che quando Keynes scrive molte delle opere che noi oggi diamo per scontate non erano ancora uscite e certamente era portatore di una visione del mondo molto diversa da quella di Marx, sapete che era addirittura un simpatizzante del partito liberale, nemmeno del partito laburista. Eppure come peraltro Vadim in una bella intervista che ha rilasciato qualche tempo fa, sottolinea se voi vi andate a guardare le note preparatorie per la stesura definitiva della teoria generale c'è una parte che poi non verrà inclusa nella teoria generale pubblicata da Keynes nel 1936, in cui Keynes cita proprio Marx, riconoscendo a Marx di essere uno dei pochissimi economisti ad aver colto la natura profonda del capitalismo, ossia come economia di M di primo, cioè un'economia in cui il sistema è volto alla produzione di più moneta a mezzo di moneta, per parafrasare SRAF, ossia un'economia in cui le imprese capitalistiche per avviare il processo di produzione di scambio devono anzitutto procurarsi da montare un finanziamento, un capitale finanziario con il quale acquistano l'unica merce esterna al proprio settore che è la forza lavoro Questa cosa che Keynes riconosce a Marx è molto importante perché dice che al fondo dal punto di vista della teoria positiva, cioè dal punto di vista in cui guardano al mondo così com'è, non dal punto di vista in cui guardano al mondo per come lo vorrebbero cambiare, sia Marx che Keynes hanno una visione piuttosto simile e in antitesi rispetto a quella allora e oggi dominante. D'altra parte molti degli elementi che voi ritroverete nell'analisi di Keynes e che ancora oggi in parte si studiano nei corsi di macroeconomia che pure tendono un po' a sparire soprattutto nelle facoltà di economia americana, ormai gli studenti del triennio non si insegna più la macroeconomia, perché è ritenuto una non scienza anche pericolosa, ma alcune di quelle categorie utilizzate da Keynes erano già state ampiamente anticipate da Marx, penso al moltiplicatore della spesa, penso al ruolo della moneta come grandezza endogena, penso al ruolo delle aspettative di profitto come uno dei fattori trainanti per le decisioni di investimento, poi c'è la teoria della preferenza per la liquidità che di nuovo Michael ha inventata Keynes, è già in Thornton che è un autore dell'Ottocento, Ricardiano dell'Ottocento e Keynes nei Grundrisse lo cita, riportando più o meno fedelmente Thornton che spiega che nei periodi di crisi gli agenti economici tendono ad accumulare scorte liquide. E poi anche la teoria della crisi, spesso si dice che sono due teorie della crisi molto diverse, Keynes rinviene nella insufficienza della domanda, soprattutto delle componenti autonome, della domanda aggregata il fattore principale di crisi, ma guardate che Marx quando parla di crisi di realizzo o persino di sovrapproduzione in fondo sta semplicemente vedendo lo stesso problema da un diverso punto di vista, certo Marx ha anche altre teorie della crisi, non ha solo una teoria della crisi da realizzo, ma di nuovo anche qui non c'è un, non solo non c'è un conflitto, ma c'è un'anticipazione di alcune delle riflessioni di Keynes. E poi c'è un altro punto che rende Keynes molto sospetto, è vero che Keynes era un liberale, amava vivere da liberale e anche piuttosto libertario e libertino nei costumi, però amava circondarsi di marxisti. E Keynes che porta a Cambridge Piero Sraffa, che non soltanto era un grande economista, amico di Gramsci, membro del partito comunista, ma anche verosimilmente era una spia sovietica. E a proposito di spie sovietiche anche l'altro grande studioso di Cambridge, lo studente preferito di Keynes era Morris Dobb, altro marxista, altra spia sovietica, non stiamo facendo dietrologie, sono cose tutto sommato oggi abbastanza note, su Sraffa vi potrei addirittura raccontare degli episodi. E la stessa John Robinson che frequentava il circolo di Keynes e che inizialmente aveva un atteggiamento abbastanza sprezzante nei confronti di Marx, chiuderà la sua carriera accademica da marxista, anche piuttosto ortodossa, cosa che le varrà assieme all'appoggio al Vietnam del Nord, le varrà il mancato premio Nobel che le era già stato assegnato e verrà ritirato in una notte in fretta e furia. Veniamo però al secondo punto, quindi insomma in Keynes ci sono elementi marxiani, che Keynes ne sia consapevole o no ci sono, perché conoscere Keynes fino in fondo è a mio avviso necessario conoscere, ma perché invece dovrebbe essere necessario conoscere Keynes per conoscere Marx? Beh, anzitutto se c'è qualche studioso di filosofia, spero di no, ditelo subito che non dico questa cosa, no vabbè, se voi vi prendete l'introduzione, line lighting, gli studiosi di filosofia di solito dicono queste cose in tedesco, io sono di economia, quindi di solito uso l'inglese, ma dai, che è l'introduzione che Marx scrive nel 57, avrebbe dovuto essere l'introduzione per la critica dell'economia politica, poi pubblicata nel 59, Marx decide che non ne vale la pena, nel senso che non serve e quindi questo scritto verrà pubblicato come un inedito tempo dopo, ma in quell'introduzione Marx chiarisce a proposito delle forme di organizzazione sociale che è dalla fisiologia dell'uomo che deriviamo quella della scimmia e non viceversa, cioè dice è dalle forme più avanzate che noi deriviamo una comprensione più profonda delle forme meno avanzate, in questo senso io credo che le categorie di Marx possano anche essere applicate a Keynes e cioè che si possa con Marx fare la stessa operazione che Marx fece a suo tempo con gli economisti politici classici. Notate bene che quando Marx si decide nel corso degli anni 50 di abbandonare la rivoluzione, perché in quel momento non sta avendo uno sbocco e di dedicarsi anima e corpo allo studio dell'economia politica nel British Museum, quando decide di fare questo i principali riferimenti di Marx sono gli economisti politici classici borghesi, non sono gli economisti socialisti dell'epoca, certo Marx ha parole di fuoco nei confronti degli economisti volgari dell'epoca, cioè di quegli economisti che invece che produrre scienza producono ideologia, ma nonostante questo mantiene fermo il riferimento all'economia politica classica, è la stessa definizione di economisti classici di Marx, è una definizione con la quale Marx sta tributando una sorta di riconoscimento da allievo di questi economisti, certo Marx cercherà di andare oltre questi economisti, ma riconosce che quelle categorie che lui svilupperà in nuce sono già presenti negli economisti politici classici, ecco perché secondo me è necessario e doveroso per capire Marx studiare gli autori che sono seguiti a Marx, certamente Keynes e Schumpeter tra tutti, ma anche gli allievi di Keynes e di Schumpeter. Ultimo punto, dai che poi così mi fermo, fin qui in merito alla teoria positiva, cioè al modo in cui Marx e Keynes guardano al mondo per come è, ora vi dico, faccio una parentesi, una cosa che dico sempre, ci sono nei tempi, io sto andando troppo lungo, la dico sempre sta cosa, è un po' un disco rotto, però per me è importante proprio da un punto di vista marxiano, quando io distingo tra teoria positiva e normativa, cioè tra come guardiamo al mondo per come è e come vorremmo cambiarlo, naturalmente lascio intendere che dall'analisi positiva della realtà ne discendano implicazioni in termini normativi, analizziamo la realtà per com'è, il capitalismo, le sue leggi, il capitalismo non ci piace e quindi decidiamo di cambiarlo, ovviamente non è mai così, materialisticamente non è mai così, è piuttosto la nostra volontà di cambiare il mondo che determina il modo in cui lo leggiamo, il mondo lo interpretiamo, se siamo davvero marxisti, quindi non credo davvero in questa distinzione, non credo davvero nel nesso causale che va da analisi positiva a proposte normative, ma per semplicità può comunque essere utile distinguere i due piani e indubbiamente sul piano della teoria normativa le visioni di Marx e di Keynes sembrano effettivamente inconciliabili. Anche qui però non andrebbe mai dimenticato che il capitalismo osservato da Marx è molto diverso da quello odierno, vi faccio un esempio, lo scetticismo con cui Marx guarda allo Stato era un tratto diffuso degli intellettuali progressisti vissuti a cavallo tra la metà del Settecento e la metà dell'Ottocento, perché ancora a fine dell'Ottocento, scusate a fine del Settecento e prima dell'Ottocento lo Stato era il monarca e essere contro lo Stato significava essere contro la volontà dispotica del monarca, era un tratto di tutta l'intelligenza progressista quella di essere contro lo Stato. Lo stesso Marx che pure vede un cambio di regime, Marx vede l'ascesa della borghesia industriale che prende le redini in Francia e Regno Unito nel corso degli anni 30 dell'Ottocento e tuttavia quello Stato che Marx sta guardando è davvero poco più o forse poco meno che un comitato d'affari della borghesia. Quello che osserverà Keynes è un capitalismo già diverso rispetto a quello di Marx e in ogni caso anche Keynes nasce liberista e si converte all'intervento del pubblico solo in seguito fino a sostenere la necessità di socializzare gli investimenti, di socializzare il credito che fuori di metafora vuole dire nazionalizzare le banche e nazionalizzare buona parte dei settori chiave dell'economia, che tra l'altro sono le misure 5 o 6 che trovate nel manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels, sono identiche, ai punti 5 o 6 trovate esattamente i due punti enunciati da Keynes al termine della teoria generale e la ragione per cui Keynes si scaglia contro le politiche liberiste e quindi cambia idea rispetto al modo migliore di intervenire, che prima era non intervenire semplicemente, è perché si rende conto che il capitalismo non regolato non soltanto produce instabilità economica, ma produce mostri politici, Keynes osserva l'ascesa del fascismo e del nazismo in Italia e in Francia e su questo punto almeno ogni marxista dovrebbe riconoscere a Keynes, diciamo così, di averci visto giusto, ecco perché secondo me è importante studiare Keynes anche per capire Marx, grazie. Grazie Marco, allora Marco Giamma ha tolto una gran fetta, ha detto benissimo delle cose che avrei voluto dire per cui non mi sovrappongo e vorrei lanciare più che altro una suggestione in che senso, parlare di Marx e Keynes è sicuramente difficile, ci sono delle difficoltà specifiche, non solo perché sono dei mostri sagri del pensiero, ma perché hanno avuto, perché il pensiero ha avuto degli effetti nella storia che sono stati assolutamente notevoli e tutti noi abbiamo in qualche modo collegati a ognuno dei due un sistema di credenze che vanno dal piano non solo teorico-economico ma anche politico che forniscono un quadro interpretativo di fondo molto forte, cioè se io adesso mi mettessi in qualche modo a fare una comparazione a livello teorico tenderemo tutti un po' a cercare i dati che confermano le nostre tesi, non sono due autori qualsiasi, sono portatori di visioni della società, come diciamo Marco, classicamente uno è associato al superamento del modo di produzione capitalistico e l'altro a demendarlo per il meglio. Allora io farei un po' questo, cercherei di vedere la cosa non a monte ma direttamente a valle, cioè collocarmi come piano di paracone su un piano politico più della prassi. Che intendo dire? Allora c'è Marx che nella seconda edizione del Capitale, nel Postscritto, enuncia un concetto molto chiaro e dice che l'economia politica in quanto scienza borghese vede il modo di produzione capitalistico non come storicamente determinato e in qualche modo come un momento di passaggio in un processo di più vasta portata, quindi non lo vede dialetticamente, ma appunto lo vede come una forma assoluta, già definita, della produzione sociale. E dice che questa visione è scientifica fino al momento in cui non si attivano i fattori di mutamento, quindi non si innesca la lotta sociale. E fa proprio l'esempio, dice insomma Riccardo aveva sottovalutato questi aspetti, poi nel 1830 quando c'è la crisi economica i teorici si trasformano in pugilatori. E allora se l'elemento di scientificità per Marx è quello, la domanda che io mi porrei è questa qui, dalle teorie di Keynes e quindi dalle politiche economiche che derivano dalle teorie di Keynes, che effetto ha sulla lotta di classe un cambiamento del genere? Cioè innescherebbero, alimenterebbero, rafforzerebbero la lotta di classe rispetto alla condizione in cui ci troviamo oggi o no? Per me la risposta è sì e questa risposta però va motivata ovviamente e secondo me però se da qui usciamo con una percezione positiva di questo passaggio, secondo me si apre, come posso dire, il sistema di credenze a cui faccio riferimento inizialmente comincia a essere potenzialmente più dialogante tra i due ambiti. Fondamentalmente bisogna dimostrare subito una cosa, una cosa da un punto di vista chenesiano e diciamo l'altra da un punto di vista marxista, cioè dal punto di vista chenesiano noi abbiamo tantissime interpretazioni e tra l'altro quelle accademicamente e anche da un punto di vista divulgativo più diffuse non sono quelle che sicuramente ne io ne Marco abbracciamo, quindi c'è da fare questo primo passaggio di verità in qualche modo e una volta fatto questo poi si potrà passare al punto di vista marxista, cioè per Keynes fondamentalmente noi abbiamo tante teorie chiamate anche nuovo chenesiane, comunque ci sono infiniti modi anche di sottilezzare sulle sfumature, però c'è tutta una messe di economisti che in qualche modo ha fatto in modo da, come posso dire, addomesticare Keynes, far rientrare le innovazioni teoriche più importanti nell'alveo della teoria economica dominante e fondamentalmente lì il massimo che si concede, tu sei chenesiano perché? Perché pensi che quando si creano una sorta di stabilità nel ciclo economico l'intervento della politica monetaria deve andare fondamentalmente a ripristinare il ciclo economico, questo è il massimo a cui si può aspirare essendo chenesiani, come diceva Marco in realtà il pensiero di Keynes è ben più radicale, fondamentalmente lui ha già sviluppato negli anni in cui scrive il trattato e la teoria generale una profonda diffidenza sul fatto che le politiche monetarie fossero sufficienti di per sé, in primo luogo la banca centrale secondo Keynes non controlla gli aggregati monetari e ancora di più queste politiche monetarie dovrebbero essere tali da riuscire a mantenere un livello di investimenti tali, da riuscire ad avere un livello di crescita soddisfacente e quindi di occupazione etc. Non controllando gli aggregati monetari da un lato e potendo aggirre solo sui tassi di interesse, lui evidenza un altro passaggio critico, la relazione molto fragile che c'è tra i tassi di interesse e gli investimenti, ossia la capacità dei tassi di interesse di stimolare gli investimenti e è per quello che arriva a dire proprio nell'ultimo capitolo della teoria generale che in qualche modo prospetta, è un capitolo di filosofia sociale in cui lui prospetta la società che avremmo se fosse vero, se venisse attuato tutto quello che ha scritto prima, la dice molto probabilmente noi arriveremo ad avere la necessità di socializzare gli investimenti e quindi come diceva anche Marco prima, qui si intende anche nazionalizzazione del credito, cioè ciò che oggi avrebbe un odore di socialismo molto marcato e lui dice questa cosa qui, è vero che se il mercato su 10 milioni di lavoratori e là i lavoratori vengono contati per quanti sono, non c'è l'occupazione strutturale, quella che non accelera l'inflazione, noi abbiamo una certa quantità di forza lavoro che va messa al lavoro, se il mercato è inefficiente e quindi fallisce nella piena occupazione come lui scrive e di qui 10 ad esempio ne ho 2 che sono disoccupati, lo Stato non interverrà, è vero sugli 8, quindi là già occupati, marzista potrebbe dire ma già là c'è un livello di sfruttamento eccetera, ovviamente non stiamo in queste categorie, però una volta che io intervengo su quei due e occupo questi due, l'anno successivo se ne ho altro mezzo milione farò lo stesso, l'anno successivo ancora in progressione io arriverò ad un punto tale che gran parte dell'economia avrà, degli investimenti saranno socializzati e anche da un punto di vista filosofico lui prepara queste conclusioni economiche perché nella fine dell'asse fair del 26 lui già va a chiarire innanzitutto che non sta scritto da nessuna parte che se qualcuno persegue il proprio interesse egoistico poi da lì si determinerà il bene generale, a parte questo dice che esistono dei servizi che sono tecnicamente sociali e dei servizi che sono tecnicamente individuali e per servizi tecnicamente sociali si intende prevalentemente degli investimenti che hanno, non che non sono redditizi ma che hanno una redditività differita nel tempo, per cui se io devo immaginare di investire, prima ho stessito al panel della scuola, di investire nella scuola, io devo avere un orizzonte che deve essere di andare dalle elementari, medie, università fino ad arrivare al dottorato così lungo che nessun privato ha un interesse, non vede nessun privato un orizzonte di profitto soddisfacente a fronte dei propri investimenti e quindi ci sono degli elementi che sono costituzionalmente pertinenti all'intervento pubblico, dall'intervento dello Stato, per cui noi immaginiamo questo e vengo un po' alla domanda che avevo fatto, se queste politiche economiche, lui nella teoria generale dice fondamentalmente i problemi sono due, bisogna raggiungere la piena occupazione e ridurre la disuguaglianza, la distribuzione iniqua ed arbitraria delle ricchezze, per cui se le politiche economiche coerentemente con gli intenti della teoria generale vanno ad agire su questi due punti, la domanda che faccio, avere una classe di lavoratori che si trova in condizioni di piena occupazione e in condizioni anche di salari degni perché c'è la lotta alle disuguaglianze, altrimenti entreremmo in una contraddizione, questi elementi qua favorirebbero la lotta di classe o meno? Secondo me la risposta è sì, ma basta che guardiamo la storia, negli anni 70 c'era un alto livello di conflittualità perché c'era un'alta consapevolezza del proprio ruolo, c'era una forza, non c'era il ricatto del padronato, nel senso perché c'era una contrapposizione forte, non essendoci ad esempio una disoccupazione elevata io non sono ricattabile sul piano del potere contrattuale e in qualche modo sono più rivendicativo e quindi questo elemento qua poi anche se progressivamente porterebbe ad un cambiamento sempre all'interno del modo di produzione capitalistico, però sicuramente più avanzato, innescherebbe appunto quelle forze sociali che noi troviamo ad esempio anche nella nostra Costituzione che ha un impianto economico affine alla teoria chenesiana, il conflitto sociale viene istituzionalizzato, quindi la riapriremo appunto alla storia della lotta di classe e a un movimento appunto di liberazione, per cui secondo me se ci convinciamo un po' di questo aspetto, è tutto ovviamente da definire, a quel punto marzisti e io li chiamo vero chenesiani perché poi c'è tutto appunto il chenesismo bastardo, per usare l'espressione della Robinson che non è quello a cui facciamo riferimento, potrebbero determinare in qualche modo un processo veramente di emancipazione e di sviluppo della lotta di classe, vi ho fatto, grazie. Quindi avrei già fatto da moderatore un altro panel, un minimo di esperienza l'ho acquisita e dico siamo stati velocissimi rispetto alla media di quelli che ho, quindi c'è spazio per le domande. Il dibattito, anche i filosofi possono... Prego, ma anche i registi, prego. No, 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 dall'altra parte, dall'altra parte. Io sono stata così stimolata a fare una domanda relativamente al fatto che si è ricordato che Keynes si è trasformato da liberista oppure ha sviluppato un pensiero diverso vedendo come il capitalismo poteva provocare anche il fascismo e il nazismo, però poi, per quello che ne so, il fascismo e il nazismo hanno anche applicato le teorie di Keynes, quindi è un po' il gatto che si morde la coda, insomma, così è come mi pare. E poi invece riguardo alla tesi seconda, cioè che applicando oggi teorie keynesiane si potrebbe sviluppare la lotta di classe, volevo dire che anche il padronato si è attrezzato nel frattempo e oggi gli stati sono molto più violenti e dittatoriali di quanto possiamo immaginare, quindi applicherebbero a questa nuova lotta di classe gli stessi metodi che il fascismo e il nazismo hanno usato in precedenza. Allora, ditemi voi se questa cosa di Marx è conciliabile con Keynes e le sue teorie monetarie salario, prezzo e profitto. La classe operaia deve comprendere che il sistema attuale con tutte le miserie che accumula su di essa genera nello stesso tempo le condizioni materiali e le forme sociali necessarie per una ricostruzione economica della società. Invece della parola d'ordine conservatrice un'eco salario per un'equa giornata di lavoro, gli operai devono scrivere sulla loro bandiera il motto rivoluzionario soppressione del sistema del lavoro salariato. Allora, sopprimere il lavoro salariato significa eliminare contemporaneamente la circolazione monetaria, quindi Keynes rispetto al pensiero di Marx è un reazionario e di fatti è stato usato in Germania e in Italia perché le sue teorie costruiscono il capitalismo di Stato che non ha niente a che vedere con il socialismo e la socializzazione dei mezzi di produzione. Quindi venire a contrabandare Keynes come un uomo che ci ha aiutato nella comprensione del sistema, Keynes ha elaborato da buon lord inglese quelle teorie, quelle prassi che sono servite a ingabbiare il proletariato, eliminando e l'hanno fatto tutte le formazioni politiche che si definivano di sinistra questo elemento che Marx aveva messo nel capitale, che è fondamentale perché se non capiamo qual è la portata vera del meccanismo sociale ed economico che Marx ha detto, che stanno in queste brevi parole l'eliminazione della circolazione monetaria del lavoro salariato, ovvero la costruzione dell'ora di lavoro come parametro universale per avere beni e servizi e creare quindi le condizioni della reale eguaglianza tra gli uomini perché la mia ora di lavoro vale quanto quella di qualsiasi cittadino del mondo, cosa che oggi non è praticabile e non è praticabile con le teorie keynesiane perché appunto sono teorie reazionari. Allora io volevo farvi appunto questa domanda, innanzitutto come riflessione mi sento di dire per quanto non ho lo spessore e le conoscenze per entrare poi nel confronto, comunque mi trovo abbastanza con le tesi espresse di queste avvicinanze, vedo questa differenza, Keynes e mi scuso se traviso alcuni passaggi, vedeva gli interventi che avete detto e che si ipotizza possano aumentare la possibilità di avere una condizione migliore per la lotta di classe come interventi dall'alto. Marx stava in un'ottica diversa per cui i lavoratori dovevano partire avanti certe istanze e quindi sono ottiche anche da questo punto di vista assai diverse. La domanda che però vi volevo fare fare è questa avvicinanza di posizioni possibili oppure la persona che è intervenuta prima nega che c'è una grossa differenza, è stata colta ed è stata portata avanti dal movimento lavoratore dei sindacati, le rivendicazioni di Marx e di Keynes convivono nelle rivendicazioni sindacali di quelli che sono i sindacati che portavano avanti la lotta dei lavoratori anche nei momenti di picco della lotta sindacale anche negli anni 70 o venivano percepiti come inconciliabili e quindi si portavano avanti istanze diverse perché questa Marx Keynes anche nell'intervento presidente si è sentito rimanda un po' alla controposizione però di decenni fa sul discorso tra rivoluzione e riforme, socialdemocrazia o partito rivoluzionario. Volevo capire nella storia del movimento operale del sindacalismo, intendo il sindacalismo di classe, qual è stata la posizione prevalente rispetto a questi due autori? Buongiorno, una domanda brevissima, volevo sapere se secondo voi il partito comunista cinese ha reinterpretato anche Keynes, volevo sapere la vostra opinione a riguardo. Scusate, giusto un commento per ristabilire un po' di verità storica, cioè non è che il fascismo applica Keynes, la categoria generale del 1936, l'intervento dello Stato nell'economia d'Italia nasce con la rivoluzione industriale dell'Italia, perché l'Italia, l'Austria e la Russia e anche un po' la Germania senza lo Stato non avrebbero fatto l'industrializzazione. Dopodiché, e la dico breve, la prima guerra mondiale è la vera rivoluzione industriale italiana, la Fiat, evidente la Fiat con la prima guerra mondiale, l'Ilva, l'Ansaldo, il problema è che come finisce la prima guerra mondiale con l'inflazione che è schizzata, falliscono, l'Ilva che è un colosso siderurgico, è il nome che porta male evidentemente, la Fiat, bregge, crolla l'Ansaldo che aveva fatto un'impresa multiproduttiva, dalle navi, ai cannoni, agli aerei, crolla la banca italiana di sconto che è la quarta banca italiana e il Banco di Roma la salvano perché è la banca del Vaticano. Lì si inventano la sezione speciale autonoma, autonoma è la parola chiave, del Consorzio Sovvenzione dei Valori Industriali, che gestisce questi brandelli e li rimette piano piano a posto. Poi nel 27 diventa istituto liquidazioni e via via, quando poi arriviamo alla crisi del 29 che l'Italia inizia nel 30, 30-31 è l'anno drammatico per l'Europa e ho finito, lì lo studio è faccio l'IMI e non mi funziona, è l'Istituto Mobiliare Italiano, è una banca e serve per risanare chi è già sano e allora l'idea è di creare l'IRI con le due sezioni quella smobilizzi, l'EVO perché c'era questo legame, il catoplebismo come diceva giustamente l'amministratore delegato della commerciale, c'è un legame intimo tra banche e imprese, le banche erano diventate proprietari delle imprese e un azionista delle banche perché ho bisogno di avere le azioni per riparare le imprese, ma non l'impresa singola, settore per settore da quella alimentare a quella sidrugica che è fondamentale e anche un rinordino anche al tiristico. Scusate, grazie, io sono d'accordo con te però, sono d'accordo con te sulla tua tesi, la mia domanda sull'America Latina negli anni 70-80 dove ci sono state tutta una serie di trasformazioni che hanno portato in pratica, Keynes c'era già stato, Marx c'era già stato e si sono sviluppate tutta una serie di politiche che erano un misto di marzismo e di keynesianismo, di keynesiane, però lì c'è stata una violenta repressione ordinata dall'alto, ecco, cioè nel senso, pur mantenendo, credo per quella che è la mia conoscenza, alcuni elementi keynesiani li hanno mantenuti anche Pinochet, per esempio, non ha totalmente privatizzato, credo, le miniere di rame o cose di questo tipo, però in un certo senso lì c'è stato un laboratorio in quegli anni in America Latina dove questa convergenza in qualche modo è stata sperimentata o è un'opinione solo mia? La differenza fondamentale a mio giudizio è la disoccupazione. Per Keynes è un problema di funzionamento del sistema in perfezione che si può curare con le politiche economiche, per Marx è l'esercito industriale di riserva, è un elemento chiave del sistema, quindi volevo sapere su questo aspetto che ne pensavo. A che ora dobbiamo... Alle sette, però magari questi possono andare avanti un pochino in più, ma... non c'è un altro panel dopo... Non c'è un panel... Non qui però c'è... Ah no, qui c'è... Allora, su Keynes, comunque già sarà data un po' una precisazione sul discorso Keynes sarà adottato dal nazismo e dal fascismo. Allora, qui c'è un punto nel senso che di base il mito del mercato che può prescindere a 360 gradi dallo Stato è appunto un mito, non funziona così. Quindi bisogna capire qual è il ruolo dello Stato rispetto al mercato. Ad esempio anche i sistemi ordo-liberisti hanno teorizzato appunto che lo Stato deve in qualche modo svolgere delle funzioni ma di vassallaggio fondamentalmente rispetto al mercato, quindi devi innanzitutto creare le condizioni affinché il mercato ci sia, perché hanno capito bene che non è un processo spontaneo quello della generazione del mercato e in secondo luogo lo Stato deve andare a fare un po' da tutore del mercato, cioè quando ci sono i fallimenti del mercato le perdite vengono in qualche modo socializzate e quindi le dobbiamo pagare tutti per ricominciare a far ripartire i profitti privati, che è un po' quello che è successo anche dopo la crisi 2007-2008, quindi il salvataggio delle banche, noi lì abbiamo visto un'esplosione dei debiti pubblici di Stati che in realtà prima avevano dei debiti assolutamente debiti pubblici bassi, di esempio Spagna, Portogallo, Irlanda con i debiti pubblici più bassi della Germania, se voi andate a ripetere i giornali dell'epoca, inizialmente nessuno attribuiva la causa ai livelli dei debiti pubblici perché sarebbe stata una contraddizione in termini, soltanto dopo e si diceva la finanza che in qualche modo ha preso un po' degli abbagli pubblici, poi subito dopo quando il fatto si è determinato e quindi il debito pubblico in realtà è esploso perché ci sono stati salvataggi per salvare le banche private, a quel punto poi la narrazione è cambiata, poi vedete da un anno a un altro questo cambio di narrazione e quindi questo non è kinesismo, almeno per come lo interpretiamo noi, nel senso che lo Stato deve avere alla base come ragione dell'intervento la democrazia perché altrimenti le questioni come quelle della piena occupazione reale da un lato e della riduzione dell'inequità e della distribuzione dei redditi, nessun sistema ordoliberista può incorporare questi rettami ed è per questo che secondo me cercando di perseguire questo tipo di politica in realtà si innesca la lotta di classe perché si riporta al centro la democrazia e la politica all'interno dell'operare della classe dei lavoratori. Questa è una, se vuoi ne facciamo una per uno oppure? Sì ho un po' di considerazioni ma sono rapide, allora intanto mi fa piacere che vi siate arrabbiati perché è un po' lo scopo quello, poi allora Keynes è nazismo e fascismo, occhio che gli economisti non contano niente, il fatto che gli economisti amino autorappresentarsi come gente che prende le decisioni al seguito dei quali vanno i governi è una falsità assoluta, gli economisti sono mosche cocchiere al più e al più danno dignità scientifica ex post a ciò che i governi, gli stati, le società fanno da tempo ex ante, è chiaro? Quindi Keynes non sono le politiche keynesiane, le politiche keynesiane nascono molto prima di Keynes, prima cosa, seconda cosa, i fascismi e i nazismi, questo è un punto fondamentale, nascono liberisti, nascono liberisti, non nascono con l'idea di utilizzare un intervento forte dello Stato in economia, si convertono nel corso degli anni 30, infatti sono solo quelli degli anni 30, poi Pinochet in realtà piuttosto liberista lo è, gioco forza perché arriva la crisi del 29, la depressione degli anni 30, i fallimenti a catena di cui si parlava, per cui il nostro buon Benito Mussolini chiama Beneduce, che peraltro era un socialista della prima ora e di lì parte l'esperienza dell'intervento dello Stato in economia per il regime fascista italiano, discorso analogo anche se non identico per i nazisti, cioè gioco forza devono farlo, un po' come l'Unione Europea gioco forza ha dovuto erogare dei finanziamenti anche se non proprio a fondo perduto nel corso della pandemia. Interessante il tema della reazione della classe padronale, certo, questo tema è un tema evocato da un altro economista mars keynesiano, tale Kaleski, polacco, che scrive testualmente che il vero limite delle politiche keynesiane, ce ne sono molti, poi vi spiegherò che io non è che sono keynesiano, ma il vero limite a suo dire delle politiche keynesiane è il fatto che le politiche keynesiane creando esattamente quelle condizioni di pieno impiego, di forza, di potere contrattuale dei lavoratori di cui parlava Vadim, finiscono per creare problemi di stabilità sociale, ai quali la classe imprenditoriale, la classe capitalista in particolare è molto più sensibile di quanto non lo sia al ciclo economico e quindi Kaleski diceva guardate che prima o poi queste politiche sbatteranno contro il muro degli interessi padronali, che si renderanno conto che avere una classe operaia, concentrata, forte e rivendicativa è un problema serio e noi nel nostro paese lo abbiamo visto il passaggio da una fase all'altra. Per Marx il punto fondamentale è la soppressione del lavoro salariato, ma è certo che è la soppressione del lavoro salariato, diciamo delle tre grandi famiglie del movimento, c'è un ragno che mi sta correndo lungo il braccio, ma delle tre grandi famiglie del movimento operaio, quella socialdemocratica, quella leninista e quella anarchica, tutte e tre le famiglie convergono sul punto, il punto è come arrivarci, per Marx ci si sarebbe potuti arrivare, per il primo Marx, il giovane Marx, attraverso un'insurrezione violenta, organizzata ma violenta, oggi lascio voi riflettere sul fatto se questa opzione sia praticabile, Keynes offriva ovviamente un'alternativa che in altri anni si sarebbe chiamata riforme di struttura, quella alternativa naturalmente sbatte contro altri problemi, quindi non sto dicendo che quella sia la strada, sto solo dicendo che quella è una strada possibile per arrivare allo stesso obiettivo. Keynes era un reazionario, ma Keynes era un liberale, non era un reazionario, certo non era un rivoluzionario, ma che dire allora dei massimi riferimenti di Marx, Hegel, era Hegel un rivoluzionario? David Riccardo, era Riccardo uno che paragonava i lavoratori e le lavoratrici al bestiame un rivoluzionario? E quindi dovremmo buttare a mare Riccardo e l'analisi del profitto della distribuzione tra classi sociali, dello stesso valore lavoro da cui Marx pesca a piene mani? Io non credo che sia questo il punto, spesso i pensatori intelligenti sono reazionali, il punto è riuscire a riprendere quelle categorie analitiche e piegarle alla lotta per il socialismo, questo abbiamo sempre fatto. Le altre domande sono difficilissime, sull'America Latina io non so dire perché l'America Latina non ce l'abbia fatta, certo è che la struttura industriale dell'America Latina è problematica, non consente, adesso sto parlando in generale, ovviamente c'è differenza tra Brasile e Argentina, ma non consente a quei paesi l'adozione di politiche keynesiane, una delle ragioni ovvie è che appena tu provi a spingere sull'acceleratore della spesa pubblica ti va in rosso la bilancia commerciale, se ti va in rosso la bilancia commerciale per paesi che sono costretti a indebitarsi utilizzando valuta estera, adesso non voglio essere tedioso e troppo tecnico, si apre un problema enorme, quindi è evidente che in quei paesi il keynesismo da solo non funziona, ammesso che funzioni da noi. Lo hanno adottato i compagni del grande giusto partito comunista cinese? Non lo so, non mi permetto di giudicare quello che stanno facendo, credo che stiano facendo bene, non ci vedo molto Keynes in quello che fanno, ci vedo una sorta di combinazione originale di elementi di piano e di elementi di mercato e a proposito di piano, notate che le grandi corporation trannazionali stanno utilizzando alla grande il piano nella gestione delle loro relazioni economiche, della relazione tra filiali, è un buon motivo per abbandonare il piano? Io non credo sia un buon motivo per abbandonarlo. Ultimo punto, e poi cedo a Vadim, sulla disoccupazione Keynes e Marx hanno un'idea opposta, Keynes ritiene che la disoccupazione in ultima istanza possa essere riassorbita attraverso politiche pubbliche, Marx ritiene che la classe capitalistica riproduca di continuo l'esercito industriale di riserva di cui ha bisogno per mantenere basso il potere contrattuale della forza lavoro, ma questo è il punto di Kaleschi evocato prima, in questo senso Keynes può essere accusato di essere idealista, di non fare i conti con la realtà dei rapporti di forza, resta il fatto che se c'è bisogno di intervenire da parte dei capitalisti è esattamente perché politiche di tipo keynesiano che non a caso sono bandite all'interno dell'Unione Europea e la cosa non è casuale, sono politiche che potenzialmente possono consentire alla classe lavoratrice di esercitare un potere più forte e su questo mi fermo e passo la parola a Vadim. Io vorrei avvalorare appunto questa conclusione che era un po' anche il mio obiettivo, cioè valutare gli effetti delle politiche che possono essere messe in campo, il discorso appunto della disoccupazione ovviamente per Marx esiste un livello di competizione intercapitalistico che poi determina la produttività del lavoro ed ha degli effetti sulla caduta tendenziale del saggio del profitto. Dall'altro lato c'è l'elemento di contrapposizione tra lavoratori e capitalisti e questo è sempre presente anche perché è il cuore della lotta di classe e è il cuore della teoria di Marx. Per cui indipendentemente da quelle che erano le idee di Keynes secondo me noi dovremmo ragionare materialisticamente, cioè quelle politiche allora una volta che sono messe in atto innescano o meno questo livello di conflittualità e per quello che diceva anche sull'osservazione di Kalecki e anche secondo me la storia tende un po' a confermare questo punto, credo che la risposta sia positiva e è su questo livello proprio di prassi politica che tenderei a realizzare un piano di comparazione tra i due pensieri. noi siamo, credo, corretti come... Giusti per l'aperitivo perché noi siamo da sinistra con la conflittura, no? Lui l'hanno dovuto strappare dallo sprizio e quindi c'è un conto in sospeso. Va bene, grazie mille per la partecipazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.